Fine del video No, stavo scherzando Ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovissimo video assurdo in cui resta la bocca aperta perché oggi noi siamo vediti i detective del bug del successo nel nuovo aggiornamento siamo i detective in questo caso mettevi i personaggi si seleziona il personaggio principale e poi un personaggio degli altri file che è una cosa successa con questo nuovo aggiornamento che non storgeremo punto schermativo e iniziamo a fare un semplicissimo combattimento tranquillo senza paranormali non ci sono glitch c'è un glitch assurdo si perché alla fine sono glitch sbagli chiamateli polpette 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 polpa 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 attenzione samuele gli dice parolacce ma fa non è un'altra cosa nei non è davvero che ti è 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 No, bravo, sei intelligente, mi hai fatto sprecare Vitori, praticamente se si cliccherà riprova, si crea, sì, arrivederci, il personaggio che avete selezionato si fonderà con il personaggio principale, in questo caso Gabriele, che giuro di non essere io, prenderai il nome e sarà una cosa atroce, guardate, cos'è, è il personaggio di prima, guardate come è diventato, è preso il nome di Gabriele, grazie messo fuori, ok, cioè guarda, mezza testa, senza capiglie, senza faccia, hai gli occhi che sono due quadrati, sembra Minecraft sto coso, cioè niente, questo Minecraft funziona ogni volta, ho provato anche a riavviare il gioco, quindi proprio, una cosa da fixare Se guardate la coda anche che è storta Vero, andiamo Guarda, non riesci a piegarsi E poi, guarda caso del colore della mia pelle, perché non si crede Perché la fusione è con il tuo personaggio? Vabbè, facciamo questo semplice combattimento No, mi sento Niente ragazzi, questo era un video fatto così, giusto per farvelo vedere Non era, né programmato né niente Giusto per farvi vedere questo bug assurdo Vedete, va, gli stessi attacchi però fusi Quindi lasciate 7 mi piace ciascuno Ciao a tutti Saluto, ciao Ciao